Rosa, grande, che onore, che piacere. Adesso condividiamo un brano e vediamo come va, perché tutto oggi è una sorpresa. Eh, di fatti, non so con dove devo andare. Senti qua, senti là. Va bene qua? Senti Rodini? Senti lì, no? Perché la batteria non ha la voce di questo. Sono, sono, sono. Approfitto per ringraziare già Ale e Alessandro Malimpenza, che ha fatto il soundcheck più veloce del mondo, perché oggi eravamo in una situazione molto particolare. Quasi quasi non potevamo essere qua, in questo momento. Alle 3, 4 c'era minaccia, mette o pioggia. Un po' la sarata tipica brasiliana, no? Il Brasile sempre rischia. Grazie al batterista, per favore. La mia voce è su. Grazie, grazie. Grazie mille, davvero.